Salve a tutti, in questo video vorrei affrontare due questioni. La prima questione riguarda le dichiarazioni di Stoltenberg, l'invito di Stoltenberg in una sua intervista recente di colpire le retrovie russe in territorio russo con le armi della Nato, con i missili della Nato. La seconda questione riguarda il dibattito in Italia riguardo al genocidio, secondo alcuni è un genocidio, io sono tra questi, secondo altri no, e come saprete ci sono autorevolissimi esponenti del mondo politico, i quali sostengono che sarebbe addirittura una bestemmia paragonare il genocidio di Hitler, il genocidio compiuto da Hitler con quello che Netanyahu sta facendo ai palestinesi. Nel secondo caso leggerò un articolo che ho pubblicato per il sito di cui sono direttore, che è sicurezzainternazionale.com, come sempre leggerò un articolo pubblicato su questo sito, l'articolo si intitola Il genocidio tutto mio, il fenomeno più tragico del nostro tempo. Per quanto riguarda invece la prima questione, le dichiarazioni di Stoltenberg, parlerò a braccio, farò alcune considerazioni, anche su questo ho scritto un articolo, ma per motivi di tempo cercherò di riassumere in pochi secondi il mio pensiero. Prima di iniziare ho alcune comunicazioni di servizio da fare, la prossima diretta, la diretta mensile, la consueta diretta del mese con gli abbonati di sicurezza internazionale .com si svolgerà il 30 maggio dalle 19 alle 20, le questioni da trattare sono moltissime, si sono accumulate molte questioni, come sempre cercherò di sviscerarle durante la diretta del mese con gli abbonati di sicurezza internazionale .com, che è anche il primo sito in Italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale, ne pubblichiamo oltre 400 al mese e per sicurezza internazionale .com io scrivo moltissimo. L'altra comunicazione di servizio è che presenterò il mio nuovo libro, il mio nuovo libro si intitola Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, lo presenterò a Firenze il 31 maggio, a partire dalle ore 21, insieme con Michele Santoro, in dialogo con Michele Santoro, sarà la presentazione del mio libro a Piazza Santissima Annunziata a Firenze. Sarà un evento pubblico alle ore 21 a Firenze il 31 maggio. Mentre domani, domani 28 maggio, parlerò a Ravenna, un altro evento alle ore 18. Sto cercando la locandina, io mi scuso come sempre, tutto è improvvisato e l'evento sarà insieme con Moni Ovadia, con Francesca Albanese. L'evento è organizzato dall'onorevole Pignedoli e adesso vi darò qualche dettaglio in più. Ecco, nel frattempo ho trovato l'invito, ho trovato la locandina, quindi ci sarà Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite in Palestina e Israele, Moni Ovadia, tutti lo conoscono, non ha bisogno di presentazioni, ci sarò anche io e Modera Sabrina Pignedoli, europarlamentare Sabrina Pignedoli. Siamo pronti, sono pronto per iniziare. Iniziamo da Stoltenberg. Che cosa mi colpisce delle dichiarazioni di Stoltenberg? Mi colpisce, come sempre, la mancanza di riflessione sulle conseguenze prevedibili delle azioni della Nato. Che cosa dissi prima che la Russia invadesse l'Ucraina? Feci una riflessione sulle conseguenze possibili delle decisioni della Nato. Dissi, se la Nato cercherà di assorbire l'Ucraina, noi sappiamo che la Nato ha trasformato l'Ucraina in un membro di fatto a partire dal 2014, se la Nato porterà avanti questa politica di assorbimento dell'Ucraina nel proprio seno, la Russia sfonderà il fronte, la Russia cercherà di allontanare la minaccia dal proprio territorio. Ed è accaduto, dissi anche per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà dieci proiettili contro l'Ucraina. Ed è accaduto, dissi anche, se l'Ucraina colpirà il territorio russo, se colpirà la città di Belgorod dall'oblast di Kharkiv, la Russia sfonderà, farà, organizzerà uno sfondamento nell'oblast di Kharkiv ed è accaduto. Quello che io cerco di fare è riflettere sulle conseguenze prevedibili delle decisioni, sulle conseguenze prevedibili delle azioni. E questo io penso dovrebbe farlo anche Stoltenberg. Quindi immaginiamo che davvero la Nato dia il permesso a Zelensky di colpire con i missili americani, i missili europei, i missili dell'Italia, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra, le retrovie russe in territorio russo. L'argomento dal punto di vista etico-politico è questo. Gli ucraini hanno tutto il diritto di colpire le retrovie russe in territorio russo per potersi difendere. L'argomento di Stoltenberg è degli analisti italiani che vanno dietro a Stoltenberg, che ce ne sono, ci sono analisti italiani che hanno pubblicato articoli in questi giorni per dire Stoltenberg ha assolutamente ragione. Il loro argomento è questo. Che cosa fa la Russia Kharkiv? Non soltanto Kharkiv. Comunque cosa fa la Russia Kharkiv? Utilizza i propri aerei in territorio russo. Questi aerei rimangono in territorio russo ma sganciano delle bombe plananti che entrano in territorio ucraino e devastano le difese ucraine. Quindi l'argomento di Stoltenberg è gli ucraini dovrebbero poter colpire questi aerei in territorio russo. Gli ucraini, secondo Stoltenberg, dovrebbero poter colpire con le armi della Nato tutto ciò che si trova in Russia e che la Russia utilizza per colpire l'Ucraina. Ma che cosa manca in questa riflessione? Come sempre manca una riflessione sulle conseguenze prevedibili. Perché? Se gli ucraini hanno il diritto di colpire la logistica russa in territorio russo, se gli ucraini hanno il diritto di colpire le retrovie russe in territorio russo, anche i russi avranno il diritto di colpire le retrovie ucraine. Dove si trovano però le retrovie ucraine? Si trovano in Polonia. Si trovano nei paesi della Nato che confinano con l'Ucraina. Quindi i russi che cosa fanno? Parlo così per farmi capire da tutti, cerco di esprimermi nel modo più semplice possibile. Prendono i loro aerei in territorio russo e li fanno transitare in territorio ucraino. Oppure come ho spiegato sganciano le bombe dal territorio russo con gli aerei, queste bombe plananti poi arrivano in territorio ucraino, eccetera. Gli ucraini non sono in grado di produrre le armi che utilizzano. La logistica ucraina, diciamo così, le retrovie si trovano a Washington e poi le armi americane, sono prevalentemente armi americane, ma chiaramente sono anche armi francesi, armi italiane, armi tedesche, eccetera, eccetera, transitano attraverso la Polonia e altri paesi che confinano con l'Ucraina, paesi della Nato. Allora, che cosa manca nel ragionamento di Stoltenberg? Manca una riflessione sulle conseguenze prevedibili, perché se i missili della Nato colpiscono il territorio russo, i russi diranno, va bene, allora voi state usando i missili della Nato per colpire le nostre retrovie in territorio russo e noi colpiamo le retrovie dell'Ucraina. Il problema è che le retrovie dell'Ucraina non si trovano in Ucraina, si trovano nei paesi della Nato. Quando qualcuno dice, e l'ho letto, sembra incredibile, questo è stato scritto da professori universitari, addirittura da opinionisti, dicono, se gli ucraini colpissero il territorio russo con le armi della Nato, sembra incredibile, ma l'hanno scritto, non soltanto l'hanno detto, l'hanno addirittura scritto, non ci sarebbe nessuna escalation, perché secondo questi professori universitari, secondo questi analisti di politica internazionale, questo discorso dell'escalation è tutta una montatura che non esiste. Invece, è talmente assurda questa affermazione, l'escalation è davanti agli occhi di tutti, noi abbiamo iniziato inviando elmetti, abbiamo finito inviando carri armati, Leopard, Abrams, Challenger, e abbiamo inviato Atacns, Patriot, Samp-T, Storm Shadow, Scalp, chi più ne ha più ne metta, bombe a grappolo, noi abbiamo inviato tutte le armi più potenti di cui disponga la Nato, le armi più sofisticate, e anche se ne guardiamo il numero di soldati, l'escalation è davanti agli occhi di tutti, perché Putin è entrato con 180.000 soldati, adesso ne ha 617.000, ora ho già spiegato in un altro mio video che cosa sia la strategia incrementale utilizzata da Putin, ma affermare come professori universitari italiani fanno in televisione, sui giornali, che non ci sarebbe nessuna escalation, ma questo è stato affermato addirittura da altri esponenti del governo britannico, i quali dicono questo discorso dell'escalation è tutta una montatura, non c'è nessuna escalation. Escalation c'è, come? Ad ogni modo, ad immaginiamo che questa circostanza si verifichi, per esercitare il ragionamento critico, immaginiamo che la Nato dia ha permesso agli ucraini di colpire la Russia in territorio russo, che cosa accadrebbe? In primo luogo quello che potrebbe accadere è quello che ho appena descritto, cioè la Russia potrebbe colpire la Polonia, cioè potrebbe colpire la logistica ucraina in Polonia. Prima che la Polonia, ad esempio immaginiamo che gli F-16 che l'Ucraina deve ricevere transitino dalla Polonia, la Russia potrebbe dire colpisco le retrovie dell'Ucraina, colpisco la logistica ucraina dove questa si trova. Si trova in Polonia, bombardo la Polonia. Ma il secondo problema è che se si verificasse una circostanza del genere, la Nato, e io trovo incredibile che nessuno abbia valutato questa conseguenza probabile, la Nato si spaccherebbe. Si spaccherebbe perché, in primo luogo, la prima cosa che io farei se si creasse una situazione del genere dove gli ucraini bombardano la Russia con le armi della Nato, con i mistiri della Nato, perché chiaramente gli ucraini già, come sappiamo, colpiscono il territorio russo con i loro droni, così pare, e che siano soltanto droni ucraini, di fabbricazione ucraina. Ma immaginiamo che colpiscano il territorio russo con i missili della Nato, per esempio con gli Atakms. E immaginiamo che la Russia risponda bombardando la Polonia, per impedire alla Polonia di trasferire gli F-16 in territorio ucraino, magari altre armi, Patriot, tutto quello che vi pare, di Samp-T, insomma, quello che la Nato fa transitare dalla Polonia, non soltanto dalla Polonia. La prima cosa che io farei è andare in televisione per spiegare che l'Italia non dovrebbe partecipare all'escalation, perché l'articolo 5, a mio giudizio, in questo caso non scatterebbe. E non scatterebbe perché a mio giudizio non ci sono le condizioni per invocare l'articolo 5, che d'errore viene commesso a monte dalla Nato, che di fatto colpisce il territorio russo. Qualcuno direbbe, sì, ma non è stata la Nato, è stata l'Ucraina. Io direi, è stata la Nato. La Nato ha colpito il territorio russo con gli Atakms, utilizzando gli ucraini. Quindi ci sarebbe un dibattito, ci sarebbero anche partiti politici, sono sicuro, in Italia, che appoggerebbero questa mia interpretazione. E non soltanto in Italia, ma in tanti altri paesi. In molti altri paesi ci sarebbero partiti politici i quali direbbero, noi non dobbiamo intervenire. Ci sarebbero in Germania, ci sarebbero in Francia e in tanti altri paesi. E questi partiti direbbero, noi non dobbiamo intervenire. Sì, è vero, la Russia ha bombardato la Polonia, ma non dobbiamo intervenire perché la Nato ha bombardato il territorio russo. Si spaccherebbe la Nato, a mio giudizio si spaccherebbe. E questo sarebbe un disastro per la Casa Bianca, sarebbe un disastro anche per l'Ucraina. Vengo adesso all'altra questione, quindi alla seconda parte del video. Discorso sull'Olocausto. Come saprete, la reputazione di Israele è stata letteralmente distrutta anche dalla richiesta del procuratore generale della Corte Penale Internazionale di spiccare un mandato di cattura contro Netanyahu. E la devastazione della reputazione di Israele si è aggravata quando la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, pochi giorni fa, ha ordinato a Israele di arrestare l'offensiva a Rafa. Perché, così dice la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, c'è il rischio che il popolo palestinese venga distrutto. Non ha utilizzato la parola genocidio, ma il senso sembra essere questo. Ovviamente Israele ha risposto in che modo? Violando l'ordine dell'ONU, l'ordine della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ha condotto vari massacri, nonostante l'ordine, a Rafa e non soltanto. Molti, molti altri massacri contro i civili. Israele ha condotto in spregio del diritto internazionale, in spregio di quello che la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU aveva appena ordinato. Il dibattito in Italia è divampato nuovamente, in realtà non si è mai spento. È genocidio oppure no? C'è stato chi ha affermato che addirittura era una bestemmia paragonare quello che Hitler ha fatto in Germania, quello che Hitler ha fatto agli ebrei con quello che Netanyahu sta facendo ai palestinesi. L'articolo che ho dedicato all'argomento si intitola Il genocidio tutto mio, il fenomeno più tragico del nostro tempo. I discendenti delle vittime di un genocidio godono di uno status, un prestigio sociale molto elevato nelle società amiche e non vogliono condividere questo status con altri popoli. Sono particolarmente resti nel riconoscere l'esistenza di un nuovo genocidio. Io ne lo ripeto, i discendenti delle vittime di un genocidio sono generalmente molto resti nel riconoscere l'esistenza di un nuovo genocidio. Per capire questo mio discorso sulla lotta intorno all'esclusività del genocidio, il fenomeno culturale che chiamo il genocidio tutto mio, occorre avere studiato molti autori. Tre in particolare. Il primo è Nice, il quale mostra che dietro i discorsi morali si nascondono spesso istinti e motivazioni assai immorali. Prendiamo il caso della Nato. La Nato che cosa dice? Noi alimentiamo dall'esterno la guerra in Ucraina per un fine morale, proteggere la democrazia, proteggere le nostre libertà. In realtà questa è soltanto retorica per nascondere i fini immorali della Nato, che è la propria espansione in Ucraina, perché come sappiamo l'obiettivo della Nato è circondare, accerchiare il più possibile la Russia, quindi inglobando l'Ucraina, inglobando la Georgia, inglobando anche la Finlandia, tutti i paesi al confine con la Russia. Però questo non può essere detto, perché non è un comportamento eticamente lodevole. E quindi la Nato che cosa fa? Un discorso morale, dobbiamo difendere la libertà e la democrazia, che tra l'altro Putin, come ho spiegato in altri miei video, non minacci in alcun modo, Putin non ha nessuna possibilità di minacciare le libertà degli italiani e non soltanto. Però la Nato fa questo discorso, un discorso morale per nascondere motivazioni e istinti immorali, la sete di potere, il desiderio di acquisire quote di potere mondiale a discapito della Russia e della Cina e così via. Quindi per poter comprendere questo mio discorso sull'esclusività del genocidio, spiego, bisogna avere letto, studiato molti autori, tre in particolare. Il primo è Nice, il quale mostra che dietro ai discorsi morali si nascondono spesso istinti e motivazioni assai immorali. Il secondo autore è Pierre Bourdieu, il quale insegna che gli uomini non lottano soltanto per il denaro e per il potere politico, ma anche per il prestigio sociale. Il terzo autore è Max Weber, il quale mostra che la società è un quacervo di conflitti. Ne ho parlato diffusamente nel mio libro Teoria sociologica classica e contemporanea. A Gaza è in atto un genocidio? Se il criterio è la definizione di genocidio contenuta nei trattati dell'ONU, la risposta è certamente. A Gaza è in corso un genocidio senza ombra, di dubbio. Se voi leggeste quello che è scritto nel trattato dell'ONU contro il genocidio e lo poneste a confronto con quello che sta accadendo a Gaza, non ci sarebbe l'ombra del dubbio sul fatto che sia in atto un genocidio. Ma il criterio che orienta il dibattito politico in Italia non è la definizione di genocidio contenuta nei trattati dell'ONU. Qualcuno in Italia pretende di essere l'unica vittima di genocidio. Un milione di bambini palestinesi a Gaza ci sta pregando di riconoscere che Israele sta compiendo un genocidio e ci implora di intervenire per fermarlo. È inumano non riconoscere che gli ebrei hanno subito un genocidio per mano di Hitler. È altrettanto inumano non riconoscere che i palestinesi stanno subendo un genocidio per mano di Israele. Ognuno vuole il proprio genocidio. Il genocidio tutto per me, il genocidio tutto mio, il genocidio solo io. È forse il fenomeno culturale più tragico e inumano del nostro tempo. Umano, troppo umano, direbbe Nice. Gli attacchi contro il procuratore generale della Corte Penale Internazionale in difesa di Netanyahu sono forse la manifestazione più evidente della decadenza morale dell'Occidente. Quindi provo a riassumere il mio pensiero. Che cosa faccio? Utilizzando questi tre autori che ho citato cerco di spiegare che le comunità umane e gli esseri umani competono moltissimo anche per il prestigio sociale e essere le uniche vittime di un genocidio in una società amica conferisce un grande prestigio sociale. Generalmente le vittime di un genocidio non vogliono condividere questo status, diciamo così, questo prestigio sociale con altri popoli. Un altro grosso errore che viene fatto è credere che un genocidio si presenti sempre nelle stesse forme. Quindi l'argomento è siccome quello che Netanyahu sta facendo i palestinesi a Gaza, in Palestina in generale, anche in Cisgiordania, non è perfettamente corrispondente a quello che Hitler ha fatto agli ebrei, allora non si può parlare di genocidio. E questo è un argomento assurdo, almeno dal punto di vista sociologico, perché i fenomeni storici sono sempre diversi tra di loro, ma pur essendo diversi tra di loro possono essere raggruppati all'interno della stessa categoria sociologica. Infatti la storia studia ciò che è unico e irripetibile, mentre la sociologia è una scienza che, come tutte le scienze, d'altronde ambisce a generalizzare, ambisce alla generalizzazione. È chiaro che quello che Hitler ha fatto non potrà mai più ripresentarsi storicamente nelle stesse forme e negli stessi modi. Hitler è morto e non può tornare in vita. Tuttavia il genocidio è possibile e a Gaza quello che noi abbiamo davanti agli occhi è un genocidio. Non c'è Hitler, ovviamente, e non ci sono i nazisti, e non ci sono le camere a gas, ma lo stermine di un popolo non deve avvenire necessariamente nelle stesse forme e negli stessi modi. Il fatto è che non ci sono le camere a gas non significa, non esclude di necessità che a Gaza sia in corso un genocidio. Ecco, questo è l'argomento risibile che viene esibito per difendere la tesi secondo cui a Gaza è assurdo. Anche semplicemente parlare di genocidio, quindi in Italia noi non dovremmo nemmeno discutere, non dovremmo nemmeno discutere se a Gaza sia in corso meno un genocidio, perché quello che ha fatto Hitler è diverso rispetto a quello che sta facendo Netanyahu, nelle forme, nei modi, i simboli sono diversi, i protagonisti sono diversi, ma è ovvio che sia così, perché i fenomeni storici non si possono mai presentare nello stesso modo. La prima guerra mondiale è stata diversa dalla seconda guerra mondiale, protagonisti diversi, battaglie diverse, eventi diversi, tuttavia noi ricomprendiamo, noi classifichiamo la prima e la seconda guerra mondiale appunto come guerre mondiali, sono entrambe guerre mondiali dal nostro punto di vista, le battaglie sono diverse tra di loro dal punto di vista storico, i protagonisti delle battaglie, l'andamento degli scontri, però noi utilizziamo questo concetto per il concetto di battaglia, a nessuno verrebbe in mente di dire che nella storia dell'umanità c'è stata soltanto una battaglia, ce ne sono state tante, ci sono state tante guerre, c'è stato più di un genocidio, è assurdo questo argomento, ma siccome in questo momento in Israele non c'è Hitler e allora non può esserci nemmeno un genocidio. Va bene, io vi ringrazio molto, ricordo a tutti che questo canale YouTube non ha pubblicità, questi video non hanno pubblicità per una mia scelta, mi è stata offerta la possibilità di monetizzare inserendo le pubblicità, ma io l'ho rifiutata questa possibilità, questo è un canale che ho aperto soltanto per restituire un po' dell'affetto che ricevo da tante persone di cui sono molto grato. Grazie e a presto!